Benvenuti a questo nuovo video dedicato al Mezzorco in Dungeons & Dragons quinta edizione. Se siete appassionati di questo popolare gioco di ruolo e siete incuriositi da questa razza ibrida unica, allora siete nel posto giusto. I Mezzorchi sono figli di una relazione tra un orco e un umano, e possiedono una combinazione di caratteristiche di entrambe le razze. In questo video esploreremo le caratteristiche distintive dei Mezzorchi, le loro abilità uniche e come poterli interpretare al meglio durante le vostre avventure. Scopriremo anche le diverse opzioni di classe che si adattano bene ai Mezzorchi, come il barbaro, il combattente o il ladro. Esploreremo le loro abilità innate, come la visione al buio, la resistenza alla paura e la potente abilità di rabbia Mezzorchesca. Inoltre, discuteremo delle sfide e delle opportunità che i Mezzorchi possono incontrare durante il gioco, sia come personaggi giocanti che come nemici da affrontare. Vedremo come la loro natura ambivalente e la percezione che il mondo ha di loro possono influenzare la narrazione e l'interazione con gli altri personaggi. Infine, daremo anche alcuni consigli utili su come personalizzare il vostro personaggio Mezzorco, creando una storia di sfondo interessante e approfondendo la sua personalità unica. Siete pronti per immergervi nel mondo dei Mezzorchi di Dungeons & Dragons? Allora non perdete questo video ricco di informazioni, suggerimenti e approfondimenti su questa affascinante razza. Se siete nuovi al gioco o veterani esperti, troverete sicuramente qualcosa di interessante in questo video. Non dimenticate di lasciare un commento con le vostre esperienze o domande riguardo ai Mezzorchi. E se il video vi è piaciuto, non esitate a mettere mi piace e condividere con i vostri amici giocatori. Grazie per aver scelto di seguirci e ci vediamo nel prossimo video. Buon divertimento nel mondo di Dungeons & Dragons. Il Mezzorco è una razza giocabile nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, quinta edizione. Questa razza è il risultato dell'incrocio tra un orco e un umano, e combina le caratteristiche fisiche e le abilità delle due razze genitoriali. I Mezzorchi hanno un aspetto robusto e muscoloso, con la pelle spesso di un colore grigio-verde o verde scuro. Hanno capelli spesso scuri, denti canini prominenti e spesso presentano delle zanne simili a quelle degli orchi. Le loro orecchie sono di forma umana, ma leggermente appuntite. L'altezza dei Mezzorchi può variare dai 1,70 ai 2 metri, con una costituzione forte e possenti. I Mezzorchi ereditano diverse abilità dalle loro razze genitoriali. Sono generalmente più forti e resistenti rispetto agli umani, ma meno di un orco puro. Questa forza e resistenza conferiscono loro un vantaggio in combattimento. Inoltre, i Mezzorchi possono possedere una notevole agilità e velocità, consentendo loro di muoversi con destrezza sul campo di battaglia. Un'altra caratteristica distintiva dei Mezzorchi è la loro natura selvaggia e la loro tendenza a essere solitari. Sono spesso visti con sospetto o paura dalle altre razze, a causa dell'associazione con gli orchi, che sono considerati feroci e malvagi. Tuttavia, i Mezzorchi possono superare questi pregiudizi e dimostrare di essere individui leali e valorosi. I Mezzorchi possono scegliere diverse classi, come guerriero, barbaro, ranger o ladro, a seconda delle loro inclinazioni e talenti. Ognuna di queste classi offre abilità e competenze uniche che possono essere sfruttate da un personaggio Mezzorco. Per quanto riguarda le abilità speciali dei Mezzorchi, nella quinta edizione di Dungeons & Dragons, essi possiedono la vista oscura, che consente loro di vedere al buio fino a una distanza di 18 metri. Inoltre, i Mezzorchi sono dotati della resistenza del Mezzorco, che conferisce loro una resistenza ai danni da spade, asce e le frecce. Infine, i Mezzorchi possono scegliere dei tratti di background che riflettono la loro storia e la loro esperienza di vita. Questi tratti possono fornire benefici aggiuntivi come conoscenze linguistiche, abilità specifiche o strumenti speciali. In conclusione, i Mezzorchi sono una razza interessante e versatile all'interno di Dungeons & Dragons, quinta edizione. Con le loro abilità fisiche superiori, la resistenza e la natura selvaggia, i Mezzorchi sono una scelta popolare per i giocatori che desiderano creare personaggi forti e carismatici. Ecco una descrizione dettagliata delle caratteristiche del Mezzorco in Dungeons & Dragons, quinta edizione. Attributi razziali. Aumento di attributi, i Mezzorchi ottengono un aumento di forza, più due, e un aumento di costituzione, più uno. Questo significa che i Mezzorchi sono fisicamente potenti e resistenti. Abilità razziali. Visione oscura. I Mezzorchi possono vedere al buio fino a 18 metri come se fosse luce piena e possono vedere in modo chiaro anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa abilità è particolarmente utile in situazioni di oscurità totale o nelle ambientazioni sotterranee. Resistenza del Mezzorco. I Mezzorchi hanno una resistenza ai danni provocati da armi da taglio, da punta e da proiettili. Questo significa che possono sopportare meglio gli attacchi fisici dei loro avversari. Agilità Relentless. Quando un Mezzorco viene ridotto a zero punti ferita ma non ucciso direttamente, può fare un tiro di salvataggio per rimanere invece a un punto ferita. Questa abilità consente al Mezzorco di sopravvivere anche in situazioni estreme e di continuare a combattere. Età. I Mezzorchi raggiungono la maturità intorno ai 14-16 anni e tendono a vivere fino a circa 75 anni. La loro durata di vita è leggermente inferiore a quella degli umani. Allineamento. I Mezzorchi sono spesso dipinti come creature selvagge e violente a causa della loro discendenza orchesca. Tuttavia, l'allineamento di un Mezzorco può variare notevolmente a seconda dell'educazione e delle scelte personali del personaggio. Taglia. I Mezzorchi sono considerati di taglia media. Questo significa che hanno una statura che va dai 1,70 ai 2 metri circa e un peso compreso tra i 90 e i 140 kg. Tuttavia, le dimensioni esatte possono variare a seconda delle caratteristiche individuali. Velocità di movimento. La velocità di movimento base di un Mezzorco è di 9 metri al turno. Questa velocità può essere influenzata da fattori come armature pesanti o incantesimi. Lingue. I Mezzorchi possono parlare, leggere e scrivere comune e orchesco. L'orchesco è una lingua gutturale e brutale parlata dagli Orchi e dai Mezzorchi. Queste sono le principali caratteristiche dei Mezzorchi nella quinta edizione di Dungeons & Dragons. Ricorda che come giocatore hai sempre la possibilità di personalizzare ulteriormente il tuo personaggio, sia in termini di aspetto che di background, per creare un Mezzorco unico e interessante che si adatti alla tua visione del personaggio. Scegliere un Mezzorco come razza nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, quinta edizione, comporta sia vantaggi che svantaggi. Di seguito sono elencati i principali pro e contro di questa scelta. Pro. Forza e costituzione. I Mezzorchi ricevono un aumento di più 2 alla forza e più 1 alla costituzione. Questi bonus attributivi li rendono fisicamente potenti e resistenti, ideali per le classi che richiedono forza e resistenza come il guerriero o il barbaro. Visione oscura. I Mezzorchi hanno la capacità di vedere al buio fino a 18 metri come se fosse luce piena. Questo è un vantaggio significativo in situazioni di scarsa illuminazione o nelle ambientazioni sotterranee, consentendo ai Mezzorchi di rilevare facilmente le minacce nascoste. Resistenza del Mezzorco. I Mezzorchi hanno una resistenza ai danni da armi da taglio, da punta e da proiettili. Questo li rende più duri rispetto ad altre razze quando sono sottoposti a tali attacchi fisici. Agilità Relentless. Grazie a questa abilità, quando un Mezzorco viene ridotto a zero punti ferita ma non ucciso direttamente. Può fare un tiro di salvataggio per rimanere invece a un punto ferita. Ciò offre una possibilità di sopravvivenza anche in situazioni di combattimento estreme. Svantaggi. Pregiudizio sociale. A causa della discendenza orchesca, i Mezzorchi spesso subiscono pregiudizi e sospetti da parte di altre razze. Possono essere visti come selvaggi, pericolosi o malvagi. Questo può portare a ostilità o problemi di interazione sociale nelle avventure e nelle comunità. Allineamento stereotipato. A causa delle rappresentazioni tradizionali degli orchi come creature brutali e malvagi. I Mezzorchi possono essere associati a un allineamento cattivo o caotico. Questo stereotipo può limitare le opzioni di interpretazione del personaggio. Limitazioni di background. A causa delle caratteristiche dei Mezzorchi. Potrebbero esserci delle limitazioni nella scelta di determinati background o nelle interazioni con alcune fazioni o organizzazioni. Ad esempio, alcuni gruppi potrebbero rifiutare la presenza di un Mezzorco. Ridotta durata della vita. I Mezzorchi hanno una durata della vita leggermente inferiore rispetto ad altre razze come gli umani. Questo può limitare le opportunità di sviluppo del personaggio a lungo termine. È importante considerare che questi pro e contro sono solo delle generalizzazioni e che è la personalizzazione del personaggio. Il background scelto e le scelte di gioco possono influire sul modo in cui vengono percepiti e vissuti. La scelta di un Mezzorco come razza può portare a storie uniche e interessanti. Ma è fondamentale collaborare con il Dungeon Master e il gruppo di gioco per garantire una buona esperienza di gioco. Ecco alcuni esempi famosi di Mezzorchi in film e libri. Half-Orc in Dungeons & Dragons. Nell'universo di Dungeons & Dragons, l'Half-Orc è una variante del Mezzorco che ha una maggiore influenza umana nelle sue caratteristiche. Sono spesso ritratti come individui robusti e risoluti con un equilibrio tra la ferocia degli orchi e l'intelligenza degli umani. Tuscar in World of Warcraft. I Tuscar sono una razza di Mezzorchi marini presenti nel mondo di Azeroth. Sono abitanti delle zone costiere e sono noti per le loro abilità di pesca e navigazione. Posseggono una forza notevole e un legame profondo con il mare. Obold Many Arrows nella serie di Forgotten Realms. Obold è un Mezzorco importante nella serie di libri Forgotten Realms scritti da R.A. Salvatore. È un leader carismatico degli orchi e guida il suo popolo attraverso molte sfide e conflitti. Uruk-hai nel Signore degli Anelli, nella trilogia cinematografica di Peter Jackson basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien, gli Uruk-hai sono una razza di creature brutali e potenti. Una combinazione tra gli orchi e gli uomini. Possiedono una forza straordinaria e sono temuti per la loro ferocia in battaglia. Orcanni in Dragon Age. Gli orcanni sono una razza di mezzorchi presenti nel videogioco Dragon Age. Sono caratterizzati da una pelle verde olivastra e da una resistenza e forza sovrumane. Gli orcanni possono essere trovati in molte regioni del mondo di Tedas. Questi sono solo alcuni esempi di mezzorchi presenti in opere di fantasia, tra giochi, libri e film. La razza dei mezzorchi offre molte possibilità di interpretazione e narrazione in vari contesti di fiction. Grazie a tutti.